buonasera a tutti sono luigio naraku se preferite e bentornati su dragon ball z dokkan battle oggi affronteremo il nuovo dokkan event di black goku nuovo canina è uscito stamattina lo affrontiamo con team strongest clani in space quindi sinceramente dire che lo distruggiamo usando un eufemismo dopo l'evento di cooler che è stato un evento comunque avente una fase che la fase dei 5 metal cooler me la ricorderò parecchio come successo sempre ci rimanda un evento della minchia ma non della minchia normale no della minchia minghiante un evento talmente facile che davvero lo reputo imbarazzante ma andiamo con ordine per chi si chiede se ho trovato black play tutto uscito un video pool stamattina dato che i video pool me li chiedete ogni tanto non posso sempre dirvi di no e da come va detto non posso avermi dire di no quindi l'ho fatto e ha portato bene andato a vederlo se vi interessa altrimenti aspettare e in futuro se vedrete dei video in cui appare il carissimo black inter saprete che l'ho trovato tornando a noi fase 1 abbiamo black ssr versione lr tech 5 barre di vita con 2 milioni di hp damage reduction del 40 per cento nessuna abilità speciale però alla fin fine ragazzi stiamo parlando comunque della fase 1 quindi ci può stare sia scarsetta noi lo attacchiamo il team ai due cooler ad ability free e invece il che gli altri pg praticamente con l'abili tutti tranne tarles che ability 2 se non erro si tarles dovrebbe avere l'abili tutti 2 o ci becchiamo subito la black camma e lui si becca subito i danni e la morte vabbè ok fase 2 lo so non è il black che vedete nell'immagine ma su di visita space non è ancora disponibile questo black che dovrebbe essere il fantomatico oh successo dicevo dovrebbe essere il fantomatico black torneo va bene ok per il resto qua mettiamoci solita turnazione un danno mandiamo fpf nel turno che più si confa e ammazziamolo questa fase vanta 2 milioni e mezzo di hp 50% di damage reduction e ha la l'abilità speciale di black in questo token festival che vi dirò al primo fight non è neanche vista ovvero quello di ricaricarsi di hp ora questa è l'unica fase che non importa quante rune abbia fatto non ho mai e solo non ho mai fatto arrivare tra gli hp ho controllato però nella wiki c'è scritto che anche questa fase di ricarichi dovrebbe ricaricarli tra i 200 e i 250 mila una volta per turno ora ditemi che cavolo di recovery è 250 mila in un turno quando non è neanche considerabile una recovery da quante poco ma vabbè black ha questa facoltà di ricaricarsi di hp una volta per turno fosse almeno che si ricaricasse alla zamasu dico io no 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 comunque questo ci fa passare alla terza fase contro black int tour e immune allo stun almeno almeno gli hanno dato l'immunità abbiamo un pochino di felicità e in questo ha una ricarica di 350 mila a partire da quando vi avete fatto danno però tu non si ricaricherà mai 50% in damage reduction picchia state attenti che picchia potreste avere situazioni in cui le buscate dalle sue special almeno però non ci vuole molto ed è baffabile ragazzi quante fighe sta special stiamo a divider l'anime stiamo a divider l'anime dunque dicevo può picchiare non chissà quanto non vi aspettate i danni della vita però qualcosina è in grado di farlo se si impegna ma sempre poca roba eh non è morto miracolo e farete un turno sono quasi sconvolto possiamo ricordare in che posto deve stare passiamo alla fase finale allora ragazzi le delusioni su dock and event vanno sempre ci escono pg belli special fighe meccaniche interessanti come questo black e poi non mi fanno sempre il solito dock and event del cavolo a sto punto mettetemi dei ticket per skippare il dock and event come in legend che quasi si fa per la figura una volta completato una volta perché tanto vabbè siamo comunque alla fase finale la fase finale è preseduta dal carissimo black goku super saiyajin rosé 3.600.000 hp immune allo stun immune al seal si ricarica di 400 410.000 hp a turno a partire dal turno in cui non è nel turno in cui scusate nel turno in cui è ferito e poi anche su di lui non è che ci sia molto altro da dire fa danno può fare anche 200.000 danni se gliene date l'occasione dato che si pompa può arrivare a essere un problema ma per chi per chi non ha un altro incompleto in questo caso ci lancia la special contro freezer che io se fosse stato lui avrei evitato di attaccarlo come vedete fpf fpf lo piglia lo spawn a pochi hp ha pochissima nismo redaction un 60% scusate che imbarazzante è buono ragazzi in realtà potete distruggere con una maria di film di timo già registrato la run free to play farvi capire vinta con due oggetti che in realtà ho usato ma non si doveva minimamente usare è un peccato a mio avviso è un vero vero peccato perché il pg era aspettato e un pochino è divertente ma l'evento se dopo mette al cuore lo mettermi in evento simile allora non so cosa si funge nella bandai vabbè che dokkan non deve creare troppi casini a fare volo di pg se no i bimbini che non sanno giocare se la prendono però così non ci siamo proprio e beh ragazzi questo era un escursus dell'evento di black purtroppo questo è l'evento noi ci vediamo domani con il sepullare e l'analisi di black tanto è solo black da analizzare quindi è veloce io vi auguro una buona serata e alla prossima ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti